non sembra un setto bene anche tu sembri una cimice su scopri le carte è meglio che parli se non vuoi una bella piombatura nuova ai detti chi diavolo sei potrei chiederti la stessa cosa dolcezza se vuoi saperlo io sono tarin fammi indovinare tu sei uno di quei ridicoli sterminatori che si illudono di ripulire la città ma è sapi una cosa quegli insettoni di metallo sono fuori dalla tua portata quindi prendi i tuoi giocattoli e fila via e ti dirò che è una cosa quel tono ti rende molto sexy abbiamo problemi più grossi di quanto credi vuoi aiutarmi ma ti avverto qui si fa sul serio tu vecchi parassiti e intanto io muovo la gru pensi di potercela fare ok bella nessun problema guarda come si fa tesoro ehi attento dove spruzzi quella roba cowboy a Grazie a tutti.